Bentornati in questo nuovo video, oggi faremo la boxing di questa telecamera di sicurezza con pannello solare marca Xega Il modello in questione è l'XG05, ovviamente vi lascerò il link su Amazon È una telecamera di sicurezza per esterni Questa telecamera non è una telecamera Wi-Fi ma è una telecamera pensata per tutti quei luoghi, quei posti che non hanno un accesso ad internet E quindi va direttamente attraverso scheda SIM Supporta tantissimi operatori telefonici quali Wind 3, Team, Vodafone, HO, Iliad e via dicendo Oggi realizzeremo l'unboxing e vediamo cosa troviamo in confezione Ok, togliamo la plastica protettiva dello scatolo e togliamo l'involucro protettivo e vediamo subito il manuale di istruzioni È presente ovviamente la lingua italiana e questo è il manuale in italiano che ci spiega passo per passo i procedimenti per poterla collegare all'applicazione Ovviamente la videocamera ha il supporto per la microSD quindi i filmati verranno salvati direttamente in locale Accessibile attraverso l'applicazione All'interno troviamo anche una scheda SIM, in questo caso un EIOT Club con 300 MB disponibili come piano di prova Andiamo a spacchettare il pannello solare che è da 6 Watt Un pannello che ci permetterà di rendere questa videocamera assolutamente autonoma Abbiamo qui un cavo USB di tipo C lungo 3 metri E adesso andiamo a vedere direttamente la videocamera Vi ricordo che la videocamera è dotata di una batteria all'interno da 10.000 mAh Quindi una batteria abbastanza grande che in teoria dovrebbe bastare Abbinata appunto al pannello per rendere totalmente l'autonomia di questa videocamera indipendente La videocamera come vedete è una PTZ in grado di muoversi quasi di 360 gradi Perché ovviamente si gira tutta Con un obiettivo da 3 megapixel in grado di registrare video superiori al Full HD Qui abbiamo le antennine La costruzione mi sembra abbastanza solita Ricordiamo che si tratta di una telecamera da esterno Quindi tranquillamente collocabile in zone dove può piovere Dove ci sono delle condizioni meteo certamente non favorevoli Andiamo a vedere subito gli ingressi Qui abbiamo il tastino Power Quindi lo switch on off Da quest'altra parte troveremo sicuramente la Type-C esatto Per collegare il pannello solare Mentre nella parte inferiore troviamo l'alloggiamento per la scheda SIM Per la scheda micro SD E anche il pulsantino per il reset Concentriamoci un attimino nella parte frontale Qui abbiamo la camera da 3 megapixel Il sensore ad infrarossi per la visione notturna E se volete anche 4 luci LED per illuminare la scena Insomma una videocamera che vi arriva in modo completo Già subito installabile E infatti troviamo un cavo anche USB-C USB-A di alimentazione Nel caso in cui noi volessimo collegare questa videocamera Direttamente ad una presa di alimentazione Il supportino da collocare ovviamente nel muro Con anche i tasselli, le viti E il supporto invece è quello da collegare Propriamente nel muro Con anche degli adesivi di fissaggio Insomma vi arriva bella completa Se siete bravi con il fai-da-te La installerete veramente nel giro di pochissimi minuti Questo è il test video Ha una qualità di 2K Ha il sensore di 3 megapixel I movimenti della telecamera risultano abbastanza fluidi E tutto sommato devo dire che Anche la qualità e la sensibilità dell'allarme Con rilevazione della persona Funziona egregiamente Abbiamo un comparto di impostazioni molto completo Che ci permette di personalizzare a dovere Tutte le impostazioni della telecamera Il video unboxing finisce qui Per qualsiasi domanda scrivetemi giù nei commenti Noi ci vediamo prestissimo con altri video Ciao